Un milione di euro subito entro il 31 dicembre per il dragaggio, altri due milioni entro i primi sei mesi del nuovo anno. Sono tre milioni di euro che il governo stanzierà per il porto di Pescara. L'annuncio è arrivato ieri dal ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi che nel corso di un incontro avuto in prefettura ha voluto così carte alla mano ribadire che a Roma tra le priorità c'è anche quella dello scalo marittimo adriatico. Nell'incontro tenuto con il prefetto Vincenzo D'Antuono, con il presidente della regione Luciano D'Alfonso, con il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, con il presidente della provincia Guerino Testa e con il comandante della direzione marittima Enrico Moretti, il ministro ha spiegato che la sinergia con il provveditorato interregionale alle opere pubbliche si sta rivelando uno strumento fondamentale, sottolineando che il problema del porto deve essere affrontato e risolto a monte e non a valle provvedendo all'approvazione rapidissima del piano regolatore portuale. Abbiamo deciso che, vista la situazione che ci è stata prospettata, entro la fine dell'anno siano fatti immediati interventi di dragaggio per un milione di euro, trovando le risorse, devo dire che è stato fatto un buon lavoro da parte del provveditore Linetti per ritrovare dei residui, eccetera, e immediatamente stanziare altri due milioni di euro per interventi da programmare entro i primi sei mesi dell'anno 2015. Il problema del porto va affrontato, ne parlavamo prima anche col Presidente della Regione, non a valle ma a monte, il tema ovviamente del fiume, mi hanno spiegato, quindi mi sembra che io sia un esperto, però ho ascoltato e ho partecipato a una riunione da questo punto di vista. E poi c'è tutto il tema dell'approvazione rapidissima del piano regolatore portuale che abbiamo ulteriormente sollecitato perché questo può iniziare a far scattare quegli interventi non di manutenzione straordinaria ma di ripensamento infrastrutturale del porto intero con l'attivazione delle risorse necessarie all'attuazione di quel piano regolatore portuale. Ma c'è anche dell'altro. Il Ministro Lupi ha infatti aggiunto che c'è l'impegno del Governo a finanziare i 2 milioni di euro per il completamento dell'ultimo lotto relativo alla realizzazione degli alloggi dei carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Su questo fronte il Comune, come ha spiegato anche il Sindaco Marco Alessandrini, avrebbe infatti già individuato un immobile privato che potrebbe ospitare la struttura permettendo così un sostanzioso risparmio. Una volta che abbiamo la fattibilità e si è concordato che questa opera stralcio può essere fatta rispetto al progetto originario possiamo vedere l'individuazione delle eventuali risorse.